Quando ero boccia, quando ero piccolo, amavo la guerra, un terribile amore per la guerra proprio. Quando arrivava l'autunno, il mio quartiere si infiammava, c'erano guerre, infazioni divise a seconda della via dove eri nato, ci inseguivamo con le cerbottane che erano tubide, plastica, segati, ci tiravamo dosso gli stupini che erano i dardi con la punta dura, ma era guerriglia urbana senza proprio nessuna regola, c'erano gli agguati davanti alla latteria, omicidi mirati dei leader delle fazioni avverse, tradimenti, i ragazzi della via Pal sembrava le giovani marmotte proprio. E poi ogni sabato andavo in edicola a comprare un'enciclopedia fascicoli, sai quelle che nessuno ha mai terminato? Andavo a comprare l'enciclopedia sulle armi da guerra, c'erano giorni migliori di altri, c'erano i giorni in cui c'erano gli elicotteri d'assalto, c'erano i giorni con i carri armati lì, mi beavo perché l'Italia era avanti su ste robe, allora mi incantavo vedere il mangusta all'elicottero cacciacarri o l'autoblindo Centauro che era una Ferrari a quattro assi che dentro sembrava kit di supercar, passavo ore a spiegare ai miei compagni di classe i danni che poteva fare al corpo umano il proiettile da 7,62 del Kalashnikov, ma dove dilagava la guerra era a casa mia, coi soldatini, soldatini piccoli, occupavano poco spazio, economici, questo è molto importante, garantivano ore e ore di divertimento a costo quasi zero, altro che quelle robe da fighetti, viziati tipo il J.I. Joe, Big Gym Action Figure, no no, soldatini 1,32, era già due ore solo a schierarli, passavi proprio tutto il tempo e li mettevi tutti insieme, per cui c'erano bersaglieri, Africa Corps, Garibaldini, pelle rossa sui cavalli, i cavalli dovevano affrontare i cararmati, due ne avevo, basta, nessuna copertura aerea perché costava e poi comunque la tecnologia non era importante perché è l'uomo che col suo impeto risolve la battaglia, che capolavoro che è l'uomo. Dopo, finito lo schieramento, un tempo lungo di contemplazione, erano bellissimi, l'ordine, quel senso di attesa per la festa feroce che stava per arrivare, le uniformi erano bellissime, colorate, belle, gli uomini erano tutti congelati in pose eroiche da combattimento, molti urlavano ed era chiaro che stavano urlando incoraggiamenti agli amici e insulti ai nemici, era tutto giusto. E poi la battaglia, la battaglia durava poco, un lampo, un lampo in cui le sorti venivano decise da un dio, io, e poi di corsa a rimettere tutto dentro lo scatolone di cartone perché tornava papà dal lavoro, il campo da battaglia diventava la sala da pranzo. Però quei soldati là, il giorno dopo, anche quelli che erano morti in battaglia, il giorno dopo, sarebbero tornati a combattere come gli eroi del Valhalla. Finché un giorno viene a casa mia Mirko, un amico delle cose che esplodono, e mi dice, beh, questi soldatini, però, sarebbe più bello usare i pettardi? Genio! No! Li prendo, li porto fuori in campetto, li schieriamo tutti, e poi cominciamo a tirare le miccette. La polvere da sparo te imbriagava, con ogni botto urlavamo come delle scimmie, il momento più bello della mia vita. Ma dopo, un disastro, l'unica jeep che avevo sventrata pezzi dappertutto, le mie amate Africa Corp, fuse, pezzi di gamba, braccia, c'era una testa staccata dal corpo che urlava di dolore. Un massacro. Dispersi dappertutto. Un sacco di quei soldati non sarebbero tornati a casa, non sarebbero tornati a combattere il giorno dopo. Un massacro. Non c'era modo di aggiustarla, sta merda. Non era più divertente? Ora, questa storia non ce l'ha una morale. Però io ho pensato che nessuno ha mai fatto le scatole di soldatini con le conseguenze della guerra. Con le file di profughi che scappano, con i ragazzi che stanno ballando prima che li ammazzino, con le famiglie che stanno chiusi dentro e rifugi antiaerei che guardano verso l'alto, con l'esercito che entra nelle case dei sospetti o che pesta i manifestanti. Nessuno le ha fatte quelle scatole di soldatini, perché non sarebbe stato più divertente.